Davide Di Maggio conferma quello che TV Sorrisi e Canzoni aveva annunciato già qualche mese fa, ovvero la presenza di Belen Rodriguez nel cast di Don Matteo X. La sexy argentina parteciperà infatti all'inossidabile fiction con il prete detective e sarà la zia di Tomas, interpretato da Andres Gil, suo connazionale e già idolo delle ragazzine da quando ha preso parte al mondo di patti. La vedremo in azione soltanto nella prima puntata di Don Matteo X, dove porterà scompiglio proprio insieme a suo nipote tra le strade di Spoleto per poi lasciare il set, l'attore e anche Terence Hill. Benché la partecipazione della Rodriguez a Don Matteo X possa dirsi straordinaria, forse in futuro avendo un legame con uno dei personaggi più importanti della fiction, sua zia gli farà di nuovo visita. Non è la prima volta che Belen si mette alla prova in una fiction. Nel 2010, molti lo ricorderanno, si è fatta notare nel commistario Montalbano che stia pensando di diversificare la sua carriera? Dopo aver avviato un ristorante con Bastianich e realizzato una linea di costumi da bagno, potrebbe anche cimentarsi seriamente nella recitazione.